Cosa cambia nella vita dell'uomo quando diviene seditario? Non ha senso costruirsi un'abitazione grande, spaziosa e dedicare molto tempo per la costruzione della propria abitazione se dovrò lasciarla a breve perché ho finito le mie risorse alimentari. Grazie all'invenzione dell'agricoltura, l'uomo può stabilirsi in un luogo e può dedicare del tempo nella costruzione della propria abitazione. Al prossimo video, ciao ciao! Ciao!